Ciao a tutti e bentornati in un nuovo Tessila News. Oggi entreremo insieme nel mondo dei bijoux e lo faremo scoprendo i nuovi charms disponibili in catalogo. Si tratta di piccoli ciondoli che vi permetteranno di creare dei bijoux o di arricchire le vostre creazioni. Vediamoli insieme. Eccoli qui i nostri charms, ipoallergenici e nickel free, quindi davvero adatti a tutti, anche più piccolini. Hanno tutti una misura di 1,1 cm di altezza all'incirca, 1,2 cm di larghezza ed un foro interno di mezzo centimetro all'incirca. Vediamo insieme tutti i modelli disponibili. Partiamo dal passeggino, come vediamo ricchissimo di dettagli, un cuoricino centrale, le ruote e tutte le pieghette della cappottina. Un'idea molto carina anche per confezionare dei piccoli cadeaux per la nascita o da regalare ad un'amica in dolce attesa. Restando sul tema nascita abbiamo lo charm bimbi, quindi una coppia di bimbi che si abbracciano l'un l'altro. Anche questo ricchissimo di dettagli. Il gufo, il classico portafortuna, è immancabile nelle occasioni più importanti. Altro simbolo di fortuna e prosperità, ovvero la tartaruga. Abbiamo poi il dado numerico, il fiore, quindi dei petali stilizzati che lo rendono molto elegante. Lucchetto cuore, un classico sigilo d'amore perfetto da regalare ad un'amica o alla fidanzata per simboleggiare la propria unione. Immancabile è un simbolo d'amore per la mamma. Charm cuore mamma. Restando in tema cuori abbiamo lo charm love. Per gli amanti dello shopping non poteva mancare lo charm bag. Una piccola borsetta rifinita nei minimi dettagli. E per concludere l'immancabile quadrifoglio. Ecco un esempio di come potrebbero essere applicati gli charms. Qui abbiamo scelto il cordino Rowen intrecciato e poi abbiamo applicato i vari ciondolini. Altra idea sarebbe quella di intervallare il ciondolo con un nodino posto prima o dopo. Un'altra idea è anche quella di valorizzare un solo ciondolo posto su un cordino opaco. Come abbiamo visto gli utilizzi sono molteplici, quindi potrete utilizzare anche un cordino lucido, come abbiamo visto il Rowen, ma perché no anche la coda di topo. Oppure per un effetto più opaco abbiamo visto il tie sublime, ma anche il cordino come ad esempio il supertie. Insomma le variabili sono molte, ma perché no anche il filo di nylon, il filo di ferro, arricchire un braccialetto che già possedete. Insomma diversi variabili. Inoltre è possibile utilizzarli anche per arricchire ad esempio dei pacchi regalo o creare delle bellissime bomboniere. Per poterli visualizzare vi basterà cliccare sulla sezione arti creative, poi bijoux ed infine perline bijoux. Li potrete visualizzare tutta la gamma di prodotti presenti nel nostro catalogo. Le opzioni sono davvero molteplici dell'utilizzo di questi piccoli ciondoli, quindi vi rimane davvero che sbizzarrirvi con la fantasia. Arrivati a questo punto io mi vi saluto, ma prima vi ricordo di attivare la campanella, iscrivervi al nostro canale e di seguirci su tutti i nostri social, così da essere sempre aggiornati su tutte le novità Tessiland. Vi ricordo la pagina Facebook Medio di Maglia, Instagram, TikTok, Pinterest e il nostro blog. Al prossimo Tessiland News! Ciao! 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 Ciao!